E un pazzo saluto a tutti ragazzi Vi parlo dal futuro perché già vi citato il video E vi dico che ho trovato un if Un bel workout Che vale un bel pochino Quindi diciamo che è un bel pacco Facchettato sia i pacchetti della weird league Che della division rivals Quindi ragazzi guardate tutto il video Un bel pollice in su, commentate qui sotto nei commenti con un giocatore che volete trovare A tutti i costi o che avete trovato E iscriviti al canale Vai col video Subitissimo food champions come sempre Ovvio te ho fatto Speriamo che trovo qualcosa anche se no Non va bene Due pacchetti mega Poi il pacchetto gioco di bravi Poi 30.000 crediti e poi 2.000 punti di Champions Ragazzi non devo niente Non lo so Non voglio vedere non vedo Non vedo Io non vedo Ma che schifo Ma perché sono così sfigato Ma chi so Prendo un roll on Ma perché Sì vai Cessni cessni con il naso Con il naso eh Con il naso ho fatto fortuna Vai eh Ti prego eh Ti prego Perché E prendiamo filpo Non è possibile Che sento già a fare tante partite Se poi non devo niente Una gioia vi chiedo Una gioia Una gioia Sono belli sti pacchetti oh Oh ti prego eh Subito un pacchetto mega come l'altra volta Ragazzi ti prego eh Ti prego Ti prego Ti prego Una gioia Una gioia È blu Che no non è niente Non è niente Non può essere un gioco Brasiliano Attaccante Che schifo Ragà no Mi sta vendendo a piangere ragà Ma che è Ma che schifo Nessuno Quattro mila crediti Ok Lui esce Lo buono e basta Mi chiede Non ti schifo Jonas Prende un costa niente Ragà Ah Te mi No po Vediamo qua Oh ragazzi Mi hanno dato Mia mia Stanno in mezzo Figo Figo Tutti la lista Dei esperimenti Sti giocatori Cioè Almeno Unif Ragà Unif Ti prego Ti prego Ti prego Fipa Ti prego Dio Ok 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 Questi modici No Chi è Raghi Dice Raghi Dice Raghi Buono E' buonissimo E' buonissimo Ragazzi Non tu quando vale Sto male più niente In mezzo a piangere Raghi Raghi Dice Fattissima Raghi Mamma mia Bastante scolata Diciamo Ma quando vuole Dai Meno 20.000 Va bene Ragà Ragà Ci sta Dai ci sta Per la stiga Che c'ho io Ci sta Raghi Dice Va bene Va bene Va bene Va bene Ultimo Park Poi abbiamo I park Della divisa Rivalz Voglio scurare Una leggenda Nicona Nicona Ragazzi Nicona Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Nicona 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 Ti prego Sei vetto Non sei vetto Per niente Invece Che pizze Questo schifo Ma dai Insomma Che schifo Oh questo Che schifezza Che delusione Sto pack Adesso I pack Di Disney Rivalz Ragazzi Io so Benissimo Che sto Per fare Una cazzata Stavo bene Che sto Per fare Una cazzata Ragazzi Però Lo faccio Per il video Così è un video Proprio Bello E quindi Apriamo Apriamo Questi pacchetti Quelli Non scambiamo Di nuovo Perché Mi Mi Famo Di Crediti Quindi Raga Male Che va Ci Per 30.000 Crediti Un pacchetto Giuse Un pacchetto Mega Per forza Solo Per il video Ragazzi Quindi FIFA Non Deludermi Per favore Eh Se no Ho buttato 44.000 Crediti Ti prego S'ha aperto Non s'ha aperto Neanche Come buttare I crediti Ragazzi Pazzo Vis Accepted Ma perché Ho fatto Sta Cavorata Non mi Dico Ho fatto Tutti I crediti Ragazzi No Mi Pado Prendo 44.000 Crediti Ho fatto Una cavorata Ho fatto Una cavorata Ragazzi Che schifo Mai più Mai più Che non Scelgo Crediti Cavolo Fermo Con l'ultimo Pack A me Non mi Da qualcosina Perché se no Mi metto a piangere Mi metto a piangere Deve uscire un gioco Dove forte Per favore Ti prego Ti prego Non mi dico Ho spaccato 44.000 Crediti Fammi Scolare Per una volta Si è aperto UN IF Ho metto Il mio primo IF Oddio 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 Oh No Questo ho trovato Prima Una piccola gioia Però Che schifo Ho trovato Un IF Dai 10.000 Crediti Me li faccio Ho trovato Seggio Roberto Che può valere Meno E vale Seggio Roberto Che è un amico Mio di scuola Questo quando vale Ma cosa Questo vale 70.000 Crediti Ma come 70.000 Crediti 11.000 Crediti Vabbè Vi sono rifatto La metà Dei credit Che mi devo Fa Però Non fa Niente Dai Giudice La settimana Facile Facile Mamma mia Primo IF Che trovo Però Potete andare Meglio Ma Non ci lamentiamo Dai Se questo video Vi è piaciuto Se volete Altri spacchettamenti Diciamo Il pollicione In su Ho spacchettato Questi pacchetti Per voi Quindi Raga Serve Bello Vi c'è Un bel like Un bel commento E Dietemi Nei commenti Voi Che Avete Trovato Iscrivete Al canale Se non avete fatto Ci vediamo Un prossimo video Bella